Ogni anno a novembre l'arma dei carabinieri celebra la sua patrona, la Virgo Fidelis. E mai come quest'anno questa ricorrenza diventa importante, in quanto la sua missione è anche quella di corredentrice del genere umano. Virgo Fidelis ha un giorno dalla sentenza di rinascita Scott. Possiamo unire le due cose? Sì, si possono unire perché la sentenza rinascita Scott è un'attività che è stata seguita ovviamente dall'arma dei carabinieri insieme alla DDA di Catanzaro. E quindi l'arma è presente tra la gente con le attività investigative per disarticolare la criminata organizzata e colpire tutte le forme di devianza in questo territorio. Oggi per noi è un giorno importante perché ricordiamo la Vergine Fedele e si ricorda anche il nostro motto che è nei secoli fedeli. Per cui sicuramente un binomio sentenza di ieri, Virgo Fidelis, assolutamente sì. Lei ha raccontato un piccolo aneddoto di quando era ancora studente? Sì, ho raccontato un aneddoto di quando frequentavo l'Annunziatella, o meglio prima di entrare all'Annunziatella, quando mi chiesero qual è la caratteristica principale che deve avere un carabiniere e mi fu risposto, mi fu suggerito la caratteristica più importante è quella di essere uomo, quindi l'umanità. Dopo 32 anni di servizio posso dire che la caratteristica più importante di un carabiniere è quella di essere prima ancora che carabiniere uomo.